Musica Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento del martedì che è una striscia che TRC Media produce in collaborazione con Inca Cigelle Bologna e Inca Cigelle Modena che stasera vede come protagonista insieme a me Marco Severi dell'Inca Cigelle di Modena appunto insieme a lui ma soprattutto insieme a voi se vorrete intervenire in diretta cercheremo di dar conto delle novità di carattere previdenziale e assistenziale che vi interessano da case quindi potete porre argomenti che riguardano soprattutto il patronato che è la materia di cui ci occupiamo in prevalenza tutti i giorni allo sportello oggi diciamo che la quotidianità tiene banco sulle nuove inserimenti normativi che dovranno essere a lato della finanziaria in questo caso è chiarito che la finanziaria non conterrà norme di carattere previdenziale ma sarà un collegato ad essa che ne parlerà e che svilupperà i temi riguardanti appunto la riforma previdenziale in particolare questa benedetta quota 100 Marco che tiene banco in perversa l'interesse da casa è tanto voi potete chiamarci allo 059 88 69 912 per parlare con noi in studio sms whatsapp al 342 199 5675 sono arrivati molti messaggi anche la settimana scorsa alcuni però chiedono chiarimenti in merito appunto alla struttura della norma che non c'è ancora possiamo dire che non c'è ci sono però indiscrezioni relative a quelli che saranno i criteri minimi questi li possiamo dire però Marco? certo assolutamente abbiamo qualche indicazione da questo punto di vista? diciamo che salvo imprevisti la quota 100 si dovrebbe caratterizzare per la richiesta di 62 anni di età appunto come età anagrafica e 38 anni di contribuzione questi sono i due punti che da più tempo sembrano consolidati poi staremo a vedere poi attorno a questo si ragiona su eventuali finestre non finestre non è ancora ben chiara questa cosa si fanno diverse ipotesi ma ad oggi non c'è nulla di più preciso il fatto stesso che oltretutto appunto si parli di un collegato che fa pensare che i tempi forse siano ancora un po' lunghi nonostante è probabile che slitteranno slitteranno dalle ipotesi iniziali che davano quasi per come dire strutturata la norma già entro la fine dell'anno qui invece secondo me un pochino Marco andremo oltre temo temo proprio di sì questa sarebbe fanta previdenza che non vogliamo ovviamente fare però insomma è vero che i tempi potrebbero non solo non coincidere ma essere in tal misura differenziati anche in regime a diverse settimane l'uno dall'altro per cui magari la luce della norma finanziaria la vediamo entro la fine dell'anno ma quel collegato potrebbe strutturarsi dopo però tu hai detto una cosa importante la quota 100 è costituita senz'altro da un'età minima a una contribuzione minima quindi tutti coloro i quali non hanno i 62 anni ancorché abbiano la quota 100 perché magari la sommatoria contributiva il sottoscritto tu per esempio abbiamo già un esempio in studio che va bene c'è un problema legato all'accesso perché non avviene se non ho quella contribuzione minima entrambi i requisiti chiaramente come erano strutturate le quote prima della fornera bravissimo e non sapremo nemmeno se per le donne ci fosse uno sconto come era previsto per l'Ape Social altro argomento importante che necessiterà di una proroga perché allo stato dell'arte l'Ape Social c'è e non c'è è un po' quella cosa delle tre carte sì infatti l'Ape Social è destinata a concludersi alla fine di quest'anno delle grandi chiacchiere su questo argomento non ne sono uscite rimane in vigore il meccanismo dei precoci per l'anno prossimo e anche lì però si vedrà se sarà anche perché anche su questa materia molta gente si informa o chiede di informazioni poi si va a vedere come è messa la cosa e ragioniamo di persone che il requisito non lo raggiungono nel 2019 quindi c'è da capire perché anche lì ci sono dei punti interrogativi noi stiamo riempiendo un po' di punti interrogativi i nostri cittadini però è così garantisco c'è anche un problema legato alle aspettative di vita perché sono già previste nel biennio 19-20 in aumento di 5 mesi ma in realtà potrebbero subire una deflessione soprattutto la norma dell'anzianità contributiva Fornero che è quella su cui ragioniamo sempre anche perché 5 mesi in più in meno fanno parecchia differenza anche perché è l'incremento più significativo da che è stata introdotta la Fornero rispetto anche a quelli previsti negli anni futuri quindi staremo un po' a vedere come succederà come si svilupperà anche perché questo vorrebbe dire per molta gente spostarsi proprio all'indietro da un anno solare all'altro nella maturazione del requisito sia per le donne che per gli uomini diciamo che dovremmo stare e prestare molta attenzione appunto a questi tre passaggi che sono coloro i quali aspettavano la proroga dell'APE Social per presentare la domanda e coloro i quali maturavano la Fornero con il nuovo requisito già aumentato dei 5 mesi potrebbero vedersi una sorpresa in diminuzione è chiaro che certezze ovviamente qui oggi non ne diamo perché anche sull'eventuale non aumento delle aspettative di vita c'è un probabile inserimento di quella torniamo un po' alle finestre della vecchia riforma Maroni ce l'eravamo un po' scordate nel senso che non le utilizzavamo dall'opzione donna ma in generale molto prima qui invece c'è oggettivamente una situazione per la quale bisognerà tornare a ragionare in questi termini prendiamo la chiamata che c'è in linea intanto così prendiamo da casa la curiosità pronto? Buonasera guardi io maturo praticamente la pensione con i 43,4 43,3 il primo di agosto del 2019 volevo sapere se c'è il blocco dell'aspettativa di vita come sembra che ci sia i 42,10 come mi devo comportare? come deve comportarsi? le date sono quelle vediamo come fare lei metta per giù il telefono che le diamo la risposta attraverso il televisore quello che possiamo dire Marco è che era il ragionamento appunto che stavamo facendo quindi lui deve stare assolutamente in attenzione esattamente quello che stiamo un po' dicendo alle persone per le quali raccogliamo le domande o diamo indicazioni rispetto alle regole attuali fine 2019 inizio 2020 di stare molto in campana perché se si blocca l'incremento dei 5 mesi chiaramente c'è un arretramento della decorrenza anche significativo quindi siccome c'è un discorso per i dipendenti in particolare di dimissioni posso dare questo consiglio a questo signore come a tutti coloro i quali stanno in questa condizione presentare la domanda attraverso il patronato vi consente di mettere in scadenza quella richiesta quindi lui si rivolgerà a Modena, Bologna dove è più comodo e sarà il patronato a quel punto che vi avvisa quindi viene lui a casa vostra e non voi a casa loro che è più comodo anche in termini di come dire attenzione su quella pratica in particolare poi è chiaro che se è un dipendente c'è il problema del preavviso eccetera eccetera però insomma davvero in questi casi dove il signore nei primi mesi dell'anno potrebbe già avere diritto se non c'è l'incremento dei 5 mesi il consiglio è esattamente quello di tenere scadenzata quella domanda in modo tale da non perdere assolutamente neanche il mese eventuale poi è chiaro che sul preavviso dopo bisognerà vedere se ha un preavviso lungo o breve è chiaro che lui può fare differenza si può fare, credo che possa farlo non abbiamo chiesto se era Modena o Bologna ma comunque si può rivolgere tranquillamente all'ufficio di competenza più vicino a lui da questo punto di vista se non ci sono chiamate in linea non me ne segnalano io vorrei procedere sul ragionamento fatto prima perché abbiamo detto c'è la chiamata quindi prendiamo la chiamata chiedo scusa, pronto? pronto? si prego buonasera, guardi io volevo sapere per il discorso della quota centro che non ho capito bene la quota centro riguarda solamente quelle persone che hanno maturato 38 anni di contributi in 62 anni di età e basta? no, allora quelli sono i requisiti minimi adesso Marco glieli spiega molto volentieri nel senso che quello deve essere minimo io però posso avere 62 anni e 40 di contributi ne posso avere 63 e 38 cioè posso abbinare alla quota perché io nel 2019 avrei 64 anni di età e 37 di contributi che sono pochi e vado a fare 101 dico 101 la quota 100 ma non è 101 come va fatto adesso Marco glielo dice volentieri signora insomma matematica e basta ma appunto bisogna che siano rispettati entrambi i requisiti i 62 anni ci vogliono i 38 di contributi ci vogliono allo stesso modo e se uno dei due requisiti manca la quota 100 non è esercitabile nell'immediato la farà l'anno dopo in questo caso la farà un po' più avanti probabilmente c'è un discorso di sommatoria anche rispetto a età e contributi però i due paletti salvo che non li cambino addirittura d'arrivo sono 62 anni e quelli ci vogliono ripeto e i 38 anni di contributi e anche quelli ci vogliono cioè non posso travasare un pezzo di età per i contributi questo è il concetto e viceversa non posso utilizzare il pezzo di contributi per costruire l'età anagrafica quindi nel caso specifico la signora dovrà aspettare l'anno successivo in cui matura i 38 anni e arriverà a maturarli magari nel 2020 poi attenzione perché questa è una norma che verrà scritto se sarà strutturale, temporanea solo sperimentale per un biennio piuttosto che perché qualcuno ha parlato anche di quello quindi insomma se ne dice tante anche sulle testate specialistiche c'è una confusione significativa ma è proprio dovuta al fatto che non c'è ancora la norma nella finanziaria c'è scritto manca norma e quindi manca davvero i criteri base non sono ancora scritti poi è vero che si fanno tante ipotesi e i cittadini faticano anche secondo me a capire bene perché c'è molta confusione anche alle spalle se la chiamata stavolta non c'è non c'è non me la segnalano va bene io vorrei procedere e chiudere il ragionamento legato invece all'opzione donna perché quello che invece secondo me è importante è che le posizioni soprattutto di quelle donne che potrebbero avere interesse siano a posto a posto vuol dire controllate diamo qualche consiglio Marco su questo aspetto anche in funzione del fatto che la norma ci darà un breve lasso di tempo per lavorare quindi insomma sicuramente sì è un bene sempre che le posizioni assicurative le persone le controllino ci diano un'occhiata per tempo anche quando non è nell'immediato la maturazione di un requisito a maggior ragione se c'è la possibilità che entrando riprendendo l'opzione donna la da dover si era interrotta e riproponendola con probabilmente un requisito un po' più alto per età ma dovrebbe rimanere quello dei 35 anni per dei contributi e ricordiamo che i 35 anni devono essere di effettivo lavoro quindi sempre si ripropone la normativa così com'era c'è da guardare bene se nella posizione assicurativa posto che i 35 ci siano se sono composti solo da lavoro effettivo che sia poi autonomo o dipendente non ha importanza e non da altra contribuzione che nel verificare il requisito non andrebbe contata quindi chiaramente è opportuno cominciare se non è già stato fatto a verificare le proprie posizioni guardare se c'è tutto quello che ci deve essere se i periodi corrispondono a quelli lavorati effettivamente se sono stati fatti gli accrediti delle contribuzioni figurative per maternità o altro diciamo tutto quello che compone una posizione assicurativa ti pongo questa questione questa è una signora che lavora nel comparto pubblico in realtà poi alla fine ormai le normative si equiparano lei ha 53 anni di età e 36 di lavoro e qui bisognerà vedere se sono di servizio se c'è del periodo contributi vediamo dopo va studiata la posizione prima della quota 100 lei dice io sarei andata in pensione nel 2025 perché l'età di 53 anni e i 36 di contributi probabilmente con la Fornero arrivava alla quota contributiva legata ai contributi 42,7 42,9 quelli che saranno oggi lei dice mi devo aspettare di andarci a 62 perché ho preso questo messaggio perché è passato in un qualche modo il concetto che la quota 100 supererebbe il resto tranquillizziamo questa signora assolutamente ad oggi nulla fa pensare che l'introduzione della quota 100 cancelli il percorso che invece è previsto dalla legge Fornero e già appunto diverse persone si sono preoccupate nelle settimane scorse di chiedere informazioni rispetto al percorso già individuato per loro diverse persone che non hanno certo raggiunto ancora i 62 anni ma che avendo cominciato molto presto sono molto vicine al requisito della Fornero si sono appunto preoccupate ma ad oggi nulla fa pensare e pensiamo proprio che sia così che la Fornero venga cancellata nel momento in cui entra in vigore un'altra normativa legata alla quota anche perché sarebbe una penalizzazione assoluta per cui ha cominciato a lavorare presto come la signora peraltro una beffa addirittura no no anche perché insomma ripeto al di là di tutto poi il comparto pubblico bisogna vedere se è scuola senti locali piuttosto che perché cambiano le regole di accesso ma i requisiti di massima sono gli stessi e se non c'è la chiamata in linea io non me la segnalano stasera sono un po' timidi i telespettatori ascoltano oppure ascoltano interessati che l'altro aspetta mi interessa mettere in evidenza che oggi invece per quanto riguarda il comparto pubblico sono già in corso le richieste per coloro i quali vanno in pensione l'anno prossimo a settembre questa è una campagna che è avviata da qualche settimana in attesa poi peraltro la circolare del New York forse tarderà anche per effetto di questi nuovi meccanismi quindi coloro i quali andranno in pensione per la scuola è l'unico settore che ha questo tipo di differimento o anticipo così elevato della domanda perché loro hanno un'unica uscita al primo settembre di tutti gli anni quindi loro hanno questo problema di verifica poi dovranno aspettare ovviamente la circolare del New York arriverà tra dicembre e gennaio per tra l'altro oggi l'utilizzo del patronato è assolutamente obbligatorio quindi non è possibile più il fai da te quindi mi raccomando perché tra l'altro poi la domanda verrà controllata perché il patronato ha anche questo onore e onere di verificare poi l'atto liquidatorio della prestazione e qualora ci siano poi delle operazioni di ricalcolo siamo pronti a farle per i cittadini che portano ovviamente la domanda da noi è chiaro che se viene fatta altrove è impossibile il controllo per una serie di elementi che sono legati al mandato di patrocinio che ci ferma da questo punto di vista io vorrei porti la questione la signora mi specificava che fa parte del comparto sanità la signora a cui abbiamo risposto prima quindi è un comparto che non ha l'uscita annuale ma ce l'ha in funzione della maturazione del requisito e magari del preavviso ma sono in generale non più di tre mesi non dovrebbero essere direi dovremmo stare attorno a quella partita vuoi aggiungere qualcosa Marco sulla questione della quota 100 che ti preme dire rispetto alle posizioni assicurative perché anche qui potrebbe esserci un blocco di due anni della contribuzione figurativa anche per loro è opportuna una verifica della posizione come per l'ottore donna sicuramente come dicevo prima il fatto di controllare e aggiornare la posizione in modo da sapere dove si è arrivati indipendentemente indipendentemente da quello che potrebbe essere il requisito che viene che viene maturato per primo nel momento in cui uno appunto possa andare in pensione è assolutamente indispensabile una posizione a posto ci permette sempre di lavorare con maggiore tranquillità e di rendere anche dare tranquillità alle persone di avere comunque come dire modo al momento in cui la normativa perché diciamo questo perché la normativa era uno spazio molto molto breve quindi dovremmo agire in tempi stretti prendiamo la chiamata che c'è in linea volentieri pronto? pronto? sì buonasera salve buonasera chiamo da Faenza io volevo una delucidazione riguardo alla precoce sì perché sto facendo varie ipotesi però naturalmente essendoci così mi dicono abbastanza vicina volevo anche il vostro parere che mi sembra molto interessante io li farei a luglio 2019 i 41 i 10 mesi sì e naturalmente mi parlano di precoce però non so io praticamente sarei anche vicino al massimo della mia pensione avendo cominciato a 15 anni questo non è la norma precoce perché la norma precoce ha un altro aspetto però lei ci dica pure la domanda così vediamo di sviscerarla sì nel senso io volevo capire se riuscivo a andarci nel 2019 allora intanto le faccio un'altra domanda che tipo di lavoro fa signora allora io da 18 anni sono in una cooperativa colas di pulizie bene ecco e però ho fatto anche 23 anni di industria stagionalmente ma una stagionale quasi fisso oserei dire però da ultimo quasi tutto l'anno da ultimo e nel comparto pulizie sì sì gli ultimi 18 allora le possiamo dare un paio di indicazioni che sono però legate alla compilazione di un modello particolare che si chiama AP116 che lei sì lo ci ho fatto bene lì il codice Istat è quello corretto oppure no? oddio mi fanno domande che adesso non lo so no no è senz'altro quello nel senso che lei dovrà presentare la domanda tra gennaio e marzo esatto perché il comparto pulizie prevede che io possa andare con il 41 forse 41 e 5 vedremo adesso sì 41 e 5 sì dopo parlavano di aspettative di vita ma io non so adesso magari però lei la domanda la farà comunque a gennaio nel senso che siccome matura comunque il requisito nel corso dell'anno lei la domanda la può fare tra gennaio e il primo di marzo che è il periodo corretto per fare la richiesta dopodiché quando arriverà la risposta lei valuterà la cessazione del rapporto di lavoro Marco ecco è importante credo che lei sia in una tranquillità piuttosto importante se hanno già verificato il codice Istat che è la parte incognita è la parte più delicata esattamente perché o c'è il codice giusto altrimenti altrimenti non ci vada allora ecco perché le hanno parlato di precoce precoce perché io ho un anno di lavoro prima dei 19 che mi consentono di andare con un requisito diverso da tutti gli altri a condizione che io abbia una delle quattro dei quattro requisiti da aggiungere in questo caso qui abbiamo il lavoro gravoso con il codice Istat inserito nella finanziaria 2018 che prevedeva la possibilità di anticipare il requisito di 10 mesi per le donne e di un anno e 10 mesi per gli uomini vedremo l'indicizzazione se ci sarà o non ci sarà vuoi aggiungere qualcosa da dire alla signora ma io direi che ci siamo la situazione è abbastanza tranquilla rientra nella casistica prevista dalla normativa per i precoci quindi è abbastanza può stare sicuramente tranquilla poi giustamente la signora stessa dice sono comunque vicina al requisito della Fornero quindi le grandissime sorprese non ci potranno essere se anche avesse l'aumento di aspettativa di vita ci va lo stesso nel 2019 assolutamente questo lo possiamo dire con tranquillità questo sì perché arriveremo a 41 e 5 mesi se la signora il 41 e 10 dice l'immatura prima della fine dell'anno potrebbe essere ma qui bisognerà vedere come sono le cadenze delle domande che arrivi prima al requisito della Fornero ordinario prima che arrivi la risposta potrebbe succedere però insomma io onestamente tra l'altro lei dice che raggiunge il requisito a luglio del 2019 mi stupisce che non abbia già fatto la domanda perché i 41 lei li poteva già avere nel 2018 allora io dico alla signora questo è di Faenza può andare tranquillamente dai colleghi di Faenza io farei verificare la maturazione dei 41 anni perché se lei fa i 41 e 10 a luglio del 2019 è segno che secondo me oggi i 41 ce li ha già così matematica mi viene da dire quindi domani faccia un giretto al patronato a controllare che nell'effettività lei non abbia maturato il requisito a meno che non abbia ma mi pare che ce l'abbia perché dice che è così da tanti anni la qualifica che è l'altro ipotesi che potrebbe essere però davvero la signora potrebbe muoversi già domani per verificare questo passaggio allora lei dirà ho i 41 davvero nell'anno prossimo o li sto già maturando perché se li sto già maturando io la domanda la posso già fare ancorché possa andare nel contingente nuovo dopo ci potrà essere un addifferimento di contingente ma io andrei al patronato che ha gestito la domanda sono andata lunghissima stasera per dare questa risposta quindi ringrazio Andrea Lugni regia Raffaele Rispo che era il tecnico all'audio stasera con noi al telefono ci ha dato una mano Enrico Nanni sempre dell'Inca di Modena che ci ha seguito io vi saluto vi auguro la buonanotte ci vediamo martedì prossimo buonanotte grazie a tutti grazie a tutti